Su animo da quando ho cominciato il mio percorso come alluminatore di fare bene, di progettare il miglior calcio possibile alle mie squadre, ai miei giocatori farli continuare sempre a crescere individualmente e collettivamente per essere scompetitivi cercando di aiutare al massimo anche gli arbitri sapendo che tante volte anche loro sbagliano di conseguenza spero che domani, visto che abbiamo due squadre in campo di grande livello anche tecnico, spero che, sono fiducioso che anche il livello di arbitraggio di domani sia dello stesso livello che il nostro.